Buongiorno, oggi è il piacere di presentarvi un nuovo prodotto. Eccolo, si tratta di un T2 professionale per fotocamera a medio formato, la GFX della Fushifilm. Sono stato il primo a produrlo, questo mi fa onore, mi rende felice, forse lo copieranno, ma non ci importa. E' un raccordo massiccio, abbastanza pesante, dopo tutto la camera non è una camera tradizionale, ma è a medio formato. Parte in ottone cromato e parte in alluminio anodizzato nero. Posso costruirlo anche con filetto 48, quindi per camera e CCD, per essere utilizzato in astronomia, in microscopia o con obiettivi T2. Vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito e arrivederci al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!